Musica Ah hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Scarlet Nexus A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata dove tutti si stanno un po' rilassando Shiden sta pure pulendo Qualcosa di incredibile tutto ciò Ci siamo lasciati lo scorso episodio con un'altra fase di attesa E abbiamo visto che bene o male abbiamo ricevuto qualcosa un po' da tutti Compreso questo bello orsacchiotto da Kagero Kagero best usbando in questo gioco Il livello della squadra è arrivato a 3 Siamo a 3 con tutti quanti quindi abbiamo dei buoni bonus devo dire Ispezioniamo il tavolo e andiamo avanti Eh lo so E da cosa Ma come stanno bene tutti vestiti uguali ora Beh magari vogliono distruggere tutti gli estrani per mettere i loro eh Sì Effettivamente è vero però Ah in quel senso io pensavo che Karen volesse tornare indietro Sì 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 È così caruccia lei Se non è lei comunque è un pezzo della chiave Sì Ah Shiden, bella domanda Oh ma guarda Missione poi fase da 7 Sicuro No secondo me Adesso arriva Un estraneo bello grosso Pensieri intrecciati e confusione Che immagine Beh sicuramente Tutte le vie commerciali sono sempre importanti durante una guerra Non c'è rapporto più importante durante una guerra Ok Ok non avete nulla da dire Andiamo E lei se ne va comunque No No Su Shiden non sta bene quel vestito lì è Ah E vai Attacco da parte di Estraneo Eh esatto Non può essere tutto un caso E vai E allora viene a ballare con me Kagero Togliamo uscite e ne mettiamo lui Ah c'è il tizio di salvataggio Perfetto Tra l'altro questa è l'area Beh abbiamo visto Tempo tempo Adietro Dove avevamo combattuto Uno dei nostri primi estranei grossi Uno dei primi boss fight Verso Il cantiere di Le Speriamo di salire di livello presto Perché vorrei aumentare qualche statistica E qualche Potenziamento interessante Ecco appunto Questa tra l'altro era l'arena Dove abbiamo combattuto con Shiden Quello Quello estraneo Allora Tu cos'è che sei? Un Bile Po Fermo Prima che mi attacchi Mentre il sasso è elettro Uccidi un Bile Po Ok Allora Uccidiamo I Bile Po Con l'elettricità Ecco fatto Vediamo se me lo conta Vediamo se me lo conta con l'elettro Però aspetta Perché non è detto Perfetto Me l'ha contato Ottimo Vediamo se conta però anche con la duplicazione Allora L2 Vediamo Missione completata Perfetto Missione completata Allora Attacchiamo Ecco fatto Altri Ecco ovviamente Mi ha fatto molto ridere Da che distanza siamo riusciti a colpirlo Andiamo Andiamogli dietro Colpo potente E ovviamente noi abbiamo distrutto Neanche un po' dell'armatura Sti nemici Sti nemici qua sono Davvero fastidiosi Veramente Ci vuole Un sacco per distruggere Le loro Cavolo di armature Guarda Guarda Che arriva Piano piano Che spara con la sua balestrina Dov'è l'altro? Ok Siamo inseriti di livello Tan tan Kagero Attento Quel coso spara acqua Ovviamente Me la spara a me Prima E ora Attaccate forte Ecco qua Distrutti tutti Qualcun altro? E ovviamente Arriba qualcun altro Questo però Saliva santa Che cavolo vuol dire Saliva santa? Ti dispiacerebbe Uscire da lì? Oh ma se vuoi rimanere là Non Non ti preoccupare Eh vabbè Rimani là Che ti devo dire? Oh per me Possiamo anche lasciarlo lì Eh Vaffanculo Rimani lì No Il problema è che non posso neanche andare Se lui non Bastardo Beccati questo Wow La portata di questo attacco Non è che Aspet No e dai L'ho appena capito Allora Il combattimento Con questo coso L'ho appena capito E sostanzialmente Mi ha fatto molto ridere la cosa Sostanzialmente questo si nasconde Se tu lo guardi Eh ti sarebbe piaciuto No? Ehi L'attacco Porca miseria Casane Ok Ok esci fuori Ipervelocità Elettricità Così dovremmo riuscire A tirarlo giù finalmente Oh E vai L'ho detto l'altra volta Col boss albere Ma se ci sono nemici così Che Che sono immuni ai colpi Veramente Ma che palle Quanti siete Se continuano ad apparire nemici così Che sono Immuni ai colpi Non ne usciamo più qua Ahia che male Uno Due Uno Due Occhio Uff Viedeli Maledizione a te Qui che altro Non capisco Se questa pioggia È considerata danno Oppure no Mi sa di sì Eh sì La pioggia è considerata danno Ok Calmi tutti Occupiamoci prima di te Madonna mia Ok Via da lì Sti nemici qua Stanno diventando Più un problema Che altro Veramente Ok Ora occupatene bene voi Dov'è Dov'è Ok Ora non mi vedi più Beccati Questo Pronto L2 Casane Io non ho idea Se l'abbiamo colpito Ma Penso di sì Via da lì Uno E due Ecco di questo In faccia L'abbiamo preso Oh Finalmente Dai che Finalmente Ci crei Ma quello è ancora vivo Ma io Ve l'ho lasciato Moribonda Apposto Per ucciderlo Oh Quanta vita Ci hanno Sti nemici Però Madonna mia Quello lì Io ve l'ho lasciato Per ucciderlo Voi Perché siete Degli esseri Inutili Maledizione A voi I miei compagni Di squadra Sono dei coglioni Mamma mia Veramente Eh quanti erano Però non è che avete fatto niente Voi Ah tra l'altro Appena Mi sono appena reso conto Che posso anche giocarmela da solo Sai cosa Metto Come obiettivo Colpire lo stesso nemico Perché a questo punto Scusami Se attaccare a volontà È Combattimento libero Ma Non si occupano Effettivamente Della cosa Tanto vale Che allora Combattiamo tutti quanti Lo stesso nemico La spedizione mica È Qua Sì Dobbiamo salire di sopra Dov'è il tizio Salvataggio Non lo so Però C'è di nuovo Sta scatola maledetta Dai Che Palle Maledizione A te Ecco fatto E ora come fai Ora che sei paralizzato Ora come fai Stupido Polpo All'interno di una scatola Maledetto Oh Tanto cielo Eh Dai Esci da quella scatola Coniglio Eh Ti sarebbe piaciuto Eh Adesso ti Cos'è C'è le convulsioni Faccio un culo Così ora Ecco fatto L2 Ora che ho capito Il tuo meccanismo Col cavolo Che Ti permetto Di muoga Dai Il problema è che non mi posso neanche ricaricare Che palle sti colpi Beccati Questo L2 Oh Aspetta Vai Shiten Speravo lo paralizzassi Vai DR2 Dai Esci fuori Bene Non abbiamo Ecco qua Seminato un cavolo Chiocca Se ti permetti Io distruggo Tutto quello che vedo Ah Tizzi salvataggio Quanto mi sei mancato Allora Siamo saliti di livello E abbiamo sette punti Perfetto Quindi Qua Non me lo toglie nessuno Perfetto Gli attacchi aerei Ricarico maggiormente Ok E questo ci aumenta Del tutto la barra Questo vuol dire che Mi conviene andare di qua Allora Tre punti No Questo Ecco fatto E poi Altri tre punti Così avremo la barra Completamente Al massimo Perché sta barra qua Dura veramente Un cavolo E di qua la spedizione Scomparsa Sì Mi sa di sì Eccoli là Crepati male Un grosso nemico Si è attaccato Vi prego Fermatelo Ara ci sembra Bionda da lì Però Ed è importante Questo veicolo Ovviamente No alla Se stiamo raggiungendo il centro Non può essere Naomi Però Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie mille Grazie mille Che brava Va considerata la sua opzione Il suo mondo si è aperto Il suo mondo si sta espandendo Non c'è niente da guardare Ok niente di importante Dov'è il nemico? Di qua? Sì Perfetto Madonna da quant'è che non salivamo Su un ascensore Saranno Una marea di episodi Ciao Ecco già arrivati Non vedo Ok ok Troppo vicino alla telecamera Ah so dove siamo Ok 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 Perché è stata mangiata Cosa? Ah ok Ah ok Sta tizia qua Veramente che palle Mamma mia Qualcuno gli spara Questa tizia Per favore Eh certo Spero che Ghioka Ti spari in un ginocchio E io spero che Ghioka Ti spari in un ginocchio Veramente Ahia che male Beccati Questo Stupida ragazzina Bruta Nanerottola Ahia Eh beh è certo Per ogni colpo schivato Me ne tira Altra cinque Lei È certo Ma che Qual è la sua Psico cinesi? Giusto per capirci Eh lo so C'è ragione Anche tu è Eh Ti sarebbe piaciuto Uno e due Ok Dai Ci siamo Yes Difesa Distrutt Molto simpatica La signorina Ah Ottimo Tranquilli È facile da riconoscere Dove cavolo sono Eccola qua Beccati Questo Colpo d'acqua Elettro E invisibile Madonna mia Se ti spago Madonna mia Se ti spago Su forza Madonna ma quante Chiocche ha tirato fuori Eccati Questo Aia Che colpo E niente Più difesa Pestana Ne rotola Speravo Speravo un po' di più Speravo un po' di più Casane Di qua Madonna mia Baccola difesa Certo che quando hai gli attacchi a distanza È facile vincere Vieni qua Uno Due Tre Presa Ah maledizione Mentre si stava trasformando Non l'ho colpita Aia Mi infaccia direttamente Allora Diventiamo invisibili Vieni qui Vieni qui Presa No Maledizione Si stava trasformando Oh E finalmente Niente più vita Maledetta Nanerottola Allora I combattimenti Sono belli Sono i danni Che sono ingiusti I danni Sono veramente Ingiusti Sto gioco Veramente E ora Scompare Quanto ci fai Scherzo Tizze di teletrasporto Addio Ecco e quando mai Un'altra Boss fight Sta arrivando Yuito E' vero E' vero Beh non è il momento Vai tirano su con la psico cinesi Sì è vero I danni di tutti Sono incredibili In questo gioco Quelli di tutti Tranne i miei Ah beh Facciamo anche i magazzinieri Ora Mamma mia Vabbè Forza Scarichiamo i materiali Guarda Che falle E' morto Ecco Ah Fantastico C'hanno seguito Quindi Ingi ideale secondo me c'hanno individuati ma se li scarichino loro i container no? cos'hai trovato Shiden? eh esatto non ho capito perché si è mosso il suo braccio è strano piccolo così cos'è questa cosa? cos'è Futurama? il museo delle teste quelle teste sono i proprietari di ex psico che voglio trasformare sta storia sta diventando sempre più complessa in modi che non dovrebbe quasi sta prendendo delle pieghe strane comunque siamo saliti di livello abbiamo tre punti ecco qua barra psi al massimo per fortuna che abbiamo tutte le chiavi di sta zona ormai mamma mia l'altra volta per passare tutte quante le porte che giri terribili che abbiamo dovuto fare l'altra volta veramente oh l'amico mio di salvataggio eccolo qua aspetta fammi prendere l'oggetto prima e ci salutiamo qui quindi signori vi ringrazio a tutti per avermi seguito come non so se vi avete seguito se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto noi ci vediamo al prossimo episodio ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti